Dopo l'annuncio dell'avvio dei lavori sulla provinciale Venti che collega Pianela Loreto a Brutino, il presidente della provincia di Pescara Antonio Zaffiri torna a parlare di viabilità provinciale, dichiarando come dal gennaio 2019 lo stesso ente ha già attivato 67 procedimenti, oltre a nulla a osta per quanto riguarda i vincoli ambientali e non. E dal gennaio 2019 ad oggi sono stati attivati 67 procedimenti, quindi 67 cantieri, 67 progetti, oltre a tutti nulla a osta per quanto riguarda i vincoli ambientali e non, e per quanto riguarda il genio civile. Quindi immaginate voi che tipo e che mole di lavoro la provincia sta svolgendo su tutta la provincia di Pescara. Poi ci sono dei lavori che partono prima anziché altri, ma dipende soprattutto dalla complessità per l'ottenimento di questi nulla a osta. Sono 67 procedimenti su tutta la provincia di Pescara per un importo di circa 43 milioni di euro, se non erro, in parte realizzati, in parte stanno partendo come quello di Pianela che oggi diamo il via. Di competenza provinciale ci sono anche gli edifici scolastici, E proprio su questo, tra mille difficoltà, sta lavorando la provincia di Pescara in attesa della decisione ufficiale da parte del ministro dell'istruzione Lucia Zolina, che dagli stati generali annuncia la volontà di puntare alla riduzione del numero degli alunni per classe. Ad oggi abbiamo delle linee guida da parte del governo che non sono ancora ufficiali, sono tutte proposte e molto probabilmente entro giovedì arriveranno quelle ufficiali, ma stante le linee guida di oggi faremo molta fatica, molta, molta fatica per riaprire le scuole. Le scuole sono state abbandonate da dieci anni minimo di manutenzione ordinaria e straordinaria, oggi noi non abbiamo la bacchetta magica e il governo non può fare una proclamazione ad effetto dicendo che i sindaci e i presidenti di provincia sono commissari straordinari, ma io dico di che cosa? Se i fondi non ce li abbiamo e non possiamo intervenire, allora servono commissari straordinari per imputare una situazione poco piacevole o trovare un capo espiatorio oppure trovare un responsabile a livello giuridico? Se è questo che vogliono fare commissari straordinari, io non ci sto, l'ho detto a chiari lettere, lo dico e lo ribadisco, che senza fondi e senza certezze le scuole possono rimanere chiuse.